Per parlare di Villa Mercede a Fontana non potevamo non venire da Rosa Iacono. Rosa, allora facciamo un passo indietro di 14 anni, a quel 25 marzo 2005. L'assessore regionale Rosalba Tufano, con Bassolino, il dottor Tispigno, il dottor Cerato, tagliò quel nastro che conservi quasi come se fosse una reliquia. Una reliquia proprio, proprio una reliquia. Eccolo qua, c'è il biglietto dell'inaugurazione e il nastro di Villa Mercede che si è usato quando si è fatta l'inaugurazione. Era una giornata piovosa, piena di una nebbia che non si vedeva un metro. C'erano tutte le autorità quasi dell'Isola Dischia, c'era regione, ci stavano tutti quanti. E' stato un giorno meraviglioso, nonostante il cattivo tempo. Volendo percorrere in maniera velocissima questi 14 anni, sono state tutte rose e fiori o ci sono state anche le spine rosa? Dal momento che c'è stata l'inaugurazione, all'inizio sembrava che non era vuota, ma poi piano piano l'agenda ha incominciato a capire il significato, il servizio, e si è piena. C'era Lubrano da Pozzuoli, che lui aveva preso questo appalto e il servizio andava benissimo. Però poi da quando hanno cambiato la cooperativa sono incominciati i problemi. Perché fino a quell'epoca c'è stato il signor Lubrano, che ora non mi viene la parola, la cooperativa esatta, venivano pagati normalmente. Mentre invece adesso si sta proprio verificando una vergogna, se vogliamo dire. Perché gli operatori lavorano, però non vengono retribuiti, non vengono pagati. Chi dice una cosa, chi dice un'altra, che la cooperativa non è stata pagata, che i documenti non erano a posto. Comunque chi ci va sotto. Il dottore di Spigna era una persona, cosa devo dire, eccezionale, perché manteneva bene. Era severo quando doveva essere severo, dolce quando doveva essere dolce. Comunque hanno tirato avanti questa opera per tanti anni. E come ho già detto prima, che il lavoro deve essere retribuito pure. Ma in un modo o nell'altro, l'ASIL deve risolvere il problema. Ma poi dopo a me della mia salute non me lo permette più come prima. Allora io non ho potuto più dedicarmi al 100% a questo problema. Però loro lo sanno che io gli sto vicino.